un saluto a tutti ragazzi benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Robocop un cyborg alto circa 62 centimetri edizione De Agostini in scala 1 a 3 questo è il secondo invio che ricevo tramite abbonamento ho anche sottoscritto la base premium andiamo subito a vedere l'interno ecco come vi arriva il secondo invio abbiamo tre numeri un attimo che faccio un po d'ordine ecco qua abbiamo come appunto ho detto il secondo invio che ha all'interno il 3 il 4 e il 5 allora come prima impressione almeno di quel poco che ho ricevuto come sapete dai primi video abbiamo montato lo stivale destro il piede destro e una parte della testa sono molto contento anche perché sapete che ho costruito l'armatura di iron man adesso sto continuando con le 20 uscite opzionali dell'armatura danneggiata molto belle anche quelle e immagino che figurone faranno poi uno accanto all'altro quindi ecco la mia considerazione molto positiva poi ho anche come vi ho appena detto sottoscritto l'abbonamento premium per aver diritto anche con un'aggiunta che ho già spiegato nel primo video quando ho iniziato la collezione di un euro e qualcosa a partire se non sbaglio dal quarto numero che vi dà appunto diritto ad avere la base illuminata che è sicuramente tutta un'altra cosa rispetto a quella che quasi certamente ci daranno lo stesso come hanno fatto con iron man ma che sarà molto più piccola va bene andiamo subito a vedere cosa ci danno intanto ringrazio tutte le persone iscritte e quelle che decideranno di iscriversi attivando anche la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video è una piccola tiratina di orecchie all'83 per cento delle persone che mi guardano ma non si iscrivono ragazzi è gratuito a parte una cosa che voglio ringraziare passione mototorino per una donazione che mi ha fatto perché sotto i video c'è scritto grazie oltre a mi piace e lui ha deciso di farmi una donazione e poi un altro signore che ringrazio anche a lui con tutto il mio cuore che però non vuole essere nominato certo a te che non posso nominare potevi anche mandare di meno eh io lo so che l'hai fatto con il cuore perché questo mi interessa ti ringrazio e grazie a te potrò fare un piccolo investimento per il mio canale così come anche a motopassione torino grazie ragazzi veramente con tutto il cuore allora andiamo a vedere il numero tre sono pezzi veramente grandi meno male che belli allora questo è sicuramente in metallo perché da qui pesa molto di più da qui no quindi ecco evidentemente questi sono in plastica questi sono certamente due pezzi in metallo e questo è un video come potete dedurre da voi solo di presentazione di questo pacco di questo nuovo invio successivamente ci saranno gli altri tre video dedicati al montaggio di ogni specifica uscita qua ci dice armatura pettorale in questa uscita monterai le piastre dell'armatura pettorale di robocop come si vede nel film questa protezione può resistere all'impatto di munizioni di grosso calibro la sua forma e la struttura sono molto caratteristiche e il modello le riproduce fedelmente devo dire che dal primo impatto poi andremo ad aprirlo negli altri video sembrano veramente belli quello che sempre mi lascia un po perplesso è il grado di finitura però vi devo dire la verità anche se è una pecca di tutte le aziende non soltanto dalla della d agostini perché faccio altri modelli li potete trovare nella mia playlist hanno un controllo qualità assolutamente assente però io ogni qualvolta ho avuto problemi con la d agostini mi hanno immediatamente chiaramente nei tempi possibili rispedito indietro il pezzo nuovo senza volere indietro il pezzo fallato ovviamente bisogna fare delle foto per dimostrare effettivamente oggettivamente che il pezzo è difettato via questo andiamo a vedere il numero 4 stavo guardando che proprio le immagini sono molto belle ma sembrano proprio riprodotte al tempo di quando appunto uscì il film perché sicuramente avrebbero potute farle molto più rifinite parlo come pixel in digitale però devo dire che appunto per quanto appena detto rispecchia quello che è la tecnologia di allora ecco andiamo a vedere qua abbiamo la mano destra eccola qui qua c'è da divertirsi dovrò poi andare a capire non dove vanno messe perché già lo vedo qua ma cosa servono le molle che in iron man non abbiamo messo e in robocop ci fanno mettere sono proprio curioso poi di montare e capire l'utilità di queste molle ci danno anche un cacciavite con la punta più sottile perché le viti rp hanno la testa croce molto più piccola delle viti bm presumibilmente anzi sicuramente tutto questo è plastica però essendoci una scritta bm la lettera finale m vuol dire metallo vedete qui è in blu e qui è in nero quella blu come colore ha la p finale quindi queste viti vanno avvitate esclusivamente nella plastica ma la m va avvitata nel metallo quindi sicuramente c'è un pezzo in metallo che essendo questo forato e questa è una copertura non può essere che questo questo qua è il pezzo in metallo dove andrà poi attaccato il pezzo dietro con queste viti qua bene in questa uscita si monta la mano destra di robocop prima di iniziare ti suggeriamo di disporre i componenti più piccoli come vedi nell'immagine dell'elenco pezzi qui sotto in questo modo sarà più semplice seguire l'ordine di assemblaggio sicuramente è un ottimo consiglio e infine il 5 eccolo qua plastica questo è metallo questo è plastica questo è ingranaggio non lo so ma sembra in metallo e in plastica però lo vedremo poi in seguito articolazione del gomito destro in questa uscita si monta l'articolazione del gomito destro di robocop come vedrai l'assemblaggio non presenta particolari difficoltà ma trattandosi di componenti mobili ti raccomandiamo di seguire con attenzione le indicazioni di montaggio che ci mancherebbe ecco qua questo è quanto questo è quanto abbiamo montato mi permetto di darvi un consiglio così come per iron man ricordatevi che l'armatura avrà sicuramente un peso considerevole quindi in virtù di questo lavorate bene sulle articolazioni non lasciate i giunti morbidi quindi facilmente come si può dire che siano facili da spostare ma che siano molto rigidi così come lavoreremo sicuramente anche in maniera rigida sulle anche perché anche e articolazioni della caviglia saranno quelli che garantiranno la stabilità al nostro robocop una volta finita diciamo l'armatura il cyborg perché anche se ha l'asta di sostegno dietro ricordatevi che anche iron man che abbiamo fatto ce l'ha ma chi non ha lavorato bene su caviglie e anche sapete voi che l'avete fatto e che magari purtroppo come si dice non avete lavorato in maniera più rigida su questi punti cruciali l'armatura vi sembra un po' una marionetta non deve essere così quindi mi raccomando basta impegnarsi un po dove io posso aiutarvi ragazzi sono qui ricordatevi come ho detto prima anche se mi guardate di iscrivervi e basta tutto qua io direi che a questo punto questa è la testa bellissima abbiamo il magneto all'interno a questo punto io direi che possiamo chiudere qui Michele vi dà appuntamento ai prossimi tre video che seguiranno del montaggio e vedremo come andrà ecco qua voilà sono veramente contento di aver sottoscritto anche questo abbonamento perché come ho detto prima non poteva mancare a fianco di iron man ciao ragazzi ci vediamo al prossimo video